Siamo arrivati adesso all'ultima prova, non è finito? Pagata a penalità, perché purtroppo su certi tratti perdiamo come assetto e quindi parliamo due minuti. Il tempo era quattro ore e pensavamo di riuscire ad arrivare in tempo quello che sarà. Adesso ci aspetta la classifica sia giornaliera che in finale. Ieri eravamo messi bene, oggi... Però fin qua siamo arrivati. La macchina ha retto, ha tenuto conto a tutto, temavamo di non farci le brevure meccaniche che avevamo presso su uno di Druida, rumori vari di vario genere, però ci abbiamo fatto, ci ha portato fino alla fine. Grande Pagena. Grande Igor che ci ha portati fin qua senza danneggiare la macchina. I nostri soldi, la nostra macchina. Grande Mauri, sempre navigatore preciso e attento e siamo andati, verrai bene. Ci siamo difesi dai. Io sono contenti. Benissimo. Siamo contenti. Siamo contenti.